Sono il proprietario di un locale qui a Milano, sui Navigli. Questo è un messaggio per le istituzioni e per tutti gli italiani. Noi non staremo più chiusi e io da domani riaprirò il mio locale, per vari motivi. Uno di questi è perché abbiamo bisogno di fatturare. E noi non siamo come quelli del sud, come i napoletani, che stanno a casa e vivono di assistenzialismo e reddito di cittadinanza. Noi abbiamo bisogno di fatturare. Noi siamo dei businessmen che mandano avanti l'economia di tutta l'Italia, che abbiamo sulle spalle tutta l'Italia. Quindi noi non ci possiamo fermare. Useremo tutte le precauzioni, ci metteremo la mascherina, i guanti. Però l'aperitivo da domani si farà, punto. Quindi invito tutti i miei amici, tutti i coetanei a venire qui a Navigli perché da domani faremo festa e si ricomincerà con l'aperitivo. E poi le foto che avete visto sono false, era questione di prospettiva, le immagini non erano vere. Ancora che credete ai media e ai giornali, non c'era tutta quella gente, non c'era tutta quella calca. È solo una questione di prospettiva e di obiettivo. Comunque da domani noi ritorneremo a fare l'aperitivo e ricominceremo a fatturare. Perché non siamo del sud, siamo di Milano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.